Allora, nei primi dieci mesi di quest'anno, secondo i dati dell'Inail, 1017 persone hanno perso la vita a seguito di un infortunio sul lavoro e addirittura 448.110 hanno avuto in questi dieci mesi un infortunio sul lavoro. E' uno ogni 50 secondi, più di uno al minuto. Il dato è in aumento del 6,3% rispetto al 2020. Insomma, una realtà, lo sappiamo, del tutto, del tutto inaccettabile. Ne parliamo con il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, che è qui in studio con noi, e collegati con la signora Paola Batignani, che è la vedova di una vittima sul lavoro, che è in collegamento con noi da Firenze. Buongiorno, signora Paola. Buongiorno. Buongiorno. Signora, ci puoi raccontare quello che è successo quel giorno a suo marito? Sì. Alessandro era a lavorare fuori Firenze e il 9 di agosto del 2019 è deceduto sotto una trave di 86 tonnellate di ferro. Lui era a lavorare su una gru e la sua gabina è rimasta completamente schiacciata. La trave non era in sicurezza dunque? Tutto il lavoro non era in sicurezza, non solo la trave. Signora, suo marito, signora Paola, suo marito l'aveva mai detto che era preoccupato per le condizioni di sicurezza in cui lavorava? No, Alessandro non si è mai preoccupato, anche perché era certo di saperlo fare il suo lavoro e lui lo sapeva fare. Noi lavoratori si pensa sempre che il nostro datore di lavoro faccia quello che è la sua responsabilità, perciò ci fidiamo e lui si fidava del suo datore di lavoro. Ricordiamo che il marito della signora Paola aveva solo 45 anni quando è... 44 anni. Presidente Bettoni, allora, più 6,3%, dato puramente freddo, ma che parla di mille persone e 448 mila altri feriti. Sì, il dato che riportiamo è un dato in aumento, voi sapete, sicuramente collegato anche al fatto che la pandemia nel 2020, per il lockdown, per la ferma dei trasporti, si era tutto fermato e la ripresa, che deve essere premetto una ripresa in sicurezza, i dati ci dicono che dobbiamo fare di più. Si continua purtroppo a morire, si continua a farsi male e le storie quotidiane ci fanno capire che è una realtà che noi tutti, lavoratori, istituzioni, forze sociali, dobbiamo prendere seriamente in più considerazione, perché dobbiamo lavorare veramente al fatto che la cultura della sicurezza ne venga parlato prima, formale, parlarne prima, a tutti, a tutta la filiera del lavoro, i datori di lavoro, i lavoratrici, i lavoratori, bisogna fare una sicurezza vera, reale, non sulla carta, ma sensibilizzando tutto al tema della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Questo è fondamentale per tutti gli attori della sicurezza. Certo, mi colpiva moltissimo quello che diceva la signora Paola. Mio marito si fidava di chi gli dava lavoro, no? Per questo non si era mai posto il problema se quel che stava facendo, il suo lavoro, fosse fatto in condizioni di sicurezza. Questo sicuramente è un dato, l'ha detto la signora, la responsabilità del datore di lavoro, ma la responsabilità di tutta la filiera. E ovviamente quando si andava a lavorare, io vengo dal mondo del lavoro, anche io, è successo anche a me lì, pertanto capisco che per quello che è la filiera e tutto quello che sta attorno, che deve mettere al centro la salute e sicurezza, con le norme che vanno rispettate, ed è importante, ma soprattutto con la sensibilizzazione a tutti gli attori del mondo del lavoro, a parlare di salute e sicurezza mettendola al centro, perché dietro a un dramma, quando succede, c'è una famiglia, ci sono persone, ed è quello che noi dobbiamo mettere al centro del tema della salute e sicurezza. Presidente, lei dice sensibilizzare tutti gli attori del mondo del lavoro, quindi anche i lavoratori, che naturalmente devono stare attenti, però il problema sono i controlli, cioè si fanno sufficienti controlli? Non è una tematica competenza INAI, lo so, però l'ultimo decreto che il governo ha aumentato gli ispettori, e quello è un tema importante per andare in quella direzione dei controlli che vanno fatti le norme. Dall'altra parte dobbiamo unire una formazione, una cultura della prevenzione diversa, da una parte fai rispetto alla norma e c'è la rigidità, dall'altra parte l'INAI lo potrebbe fare, lo vuol fare partendo dai dati degli incidenti, a sensibilizzare gli attori, lavoratrici, lavoratori e ovviamente datori di lavoro, perché molte volte è anche lo stesso datoratore nelle piccole e medie imprese che gli accade l'incidente o che muore sul lavoro. Pertanto è un'opera importante di sensibilizzazione e il parlarne aiuta sicuramente. Parliamo della formazione, che diciamo lei in questo momento ci sta dicendo che è uno dei campi su cui bisogna intervenire, in che modo si può formare alla cultura della sicurezza? Per quanto, l'istituto fa molta informazione, molta formazione, con dei bandi, con delle presenze, con vari protocolli di intesa, con tutti i settori, forze sociali comprese, a sostegno della formazione. Ma noi ritengo che sia, dalla mia esperienza e da tante cose, sia un tema che va affrontato con la formazione reale, con il racconto delle storie, con il racconto di cosa succede, di cosa accade. Perché il parlare, la testimonianza vera delle cose positive, delle cose negative nel mondo del lavoro aiuta a sensibilizzare i lavoratori, i lavoratrici e gli stessi datori del lavoro. Signora Paola, volevo chiederle, ma lei si è sentita supportata, diciamo così, quando le è accaduto quello che è accaduto dalle istituzioni, dalla collettività, dal Stato? L'hai sentita aiutata, è stata aiutata, insomma, è rimasta sola oppure no? Allora, come veniva detto prima, il dramma non è solo per colui che perde la vita sul lavoro, ma anche per l'intera famiglia. Le istituzioni personalmente mi sono state vicine, ma non basta, non basta quello che viene riconosciuto, purtroppo. Io alle spalle ho un lavoro, ho un lavoro sicuro e posso lavorare per rendere il futuro di mio figlio diverso, ma ci sono tantissime donne che non hanno la mia condizione economica e ad oggi ci viene riconosciuto un qualcosa per i nostri figli fino all'età di 18 anni. Alessandro non avrebbe mai messo nostro figlio sulla strada a 18 anni, non gli avrebbe mai detto da oggi in poi sei solo, pensaci da te, alla tua vita e invece in Italia questo succede, Giulio ha un riconoscimento fino ai suoi 18 anni di età, poi non c'è più nessuno che lo aiuta, perciò sì, le istituzioni ci sono, ma non basta quello che ad oggi purtroppo abbiamo. Io sono due anni che io e Giulio siamo in terapia, perché una morte così violenta non è semplice da affrontare, non è semplice da gestire. Abbiamo avuto il coraggio di chiedere aiuto, ma non basta solo il coraggio, c'è bisogno di essere aiutati economicamente a poterselo permettere. Ripeto, io oggi me lo posso permettere, però molte altre persone non riescono, perché se l'unica persona che porta un reddito in casa è tuo marito, come fa una mamma a poter pensare? Quello che dice la signora Paola è assolutamente giusto. Sicuramente la norma è questa, ovviamente dopo i 18 anni se vanno a scuola continuano a ricevere fino all'università, fino a 26 anni, ma il tema della tutela delle vittime di incidenti sul lavoro è un tema importante che va preso in carica. Noi su questo tema dobbiamo anche 3 milioni e mezzo di lavoratrici, lavoratori, medici di famiglia, liberi professionisti e autonomi che non sono assicurati, non hanno la stessa copertura e l'istituto è pronto ad accogliere come ha fatto con i rider nel 2020, come farà a breve con i lavoratori dello spettacolo autonomo, come farà nel 2022. Le prestazioni alle vittime di incidenti sul lavoro sono importanti e vanno prese in carico, guardando lo sviluppo c'è anche il tema della prevenzione verso le aziende, l'istituto ha investito nella sicurezza sul lavoro, a chi fa sicurezza sul lavoro, 2 miliardi e mezzo in 10 anni, più 2 miliardi di sconto di primi alle aziende che fanno sicurezza. Cioè bisogna andare avanti, tutelare le vittime degli incidenti sul lavoro e fare prevenzione, cultura nelle aziende. E da parte nostra possiamo solo che continuare a raccontare e ad informare da questo punto di vista. Grazie signora Paola davvero per averci raccontato la sua storia, un abbraccio a lei, a Giulio, a suo figlio, grazie Presidente per essere stato con noi. Per l'attenzione.